Oggi ragazzi siamo qua tornati subito sul mio canale per un video epico Prova a non rimanere soddisfatto Oddio raga no 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 Sta già iniziando il video Mamma mia ragazzi Mamma mia ragazzi Aspettate facciamo una cosa Aspettate che abbasso l'audio Ok Mamma mia Ok questo non mi soddisfa molto Mamma mia quello di prima era stra soddisfacente Sarà la prova a non rimanere soddisfatto 100% 100% impossibile Che cacchio è sta roba Non so perché ma è come se È come se mi facesse rimanere soddisfatto Però non me lo fa rimanere No 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 ragazzi A me queste cose mi fanno impazzire A me queste cose ragazzi mi fanno strastare soddisfatto Cioè ragazzi già alla terza La seconda mi No questa no non mi fa rimanere soddisfatto Già la terza Tipo mi Avrei già perso la sfida Ma che cacchio è sta roba Tutto touch Ma ragazzi Oh mamma mia Ma che cacchio è sta facendo Ma a me non soddisfa per niente questa cosa La Oddio che cacchio è sta roba Oddio Oddio Ragazzi no è bellissimo Che bello Mamma mia raga Oh no no vabbè ma dai ma questa sfida Io l'ho già persa Ma che No ragazzi adesso mi verrebbe voglia di prendere gli squishy No no ci mettono No 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 Sì vabbè Eh sì 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 Quanto mi verrebbe voglia di Di usare Ah 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 che No ragazzi no 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 Stiamo calmi Ragazzi no Ma poi con che precisione Mamma mia ragazzi che benessere Fatemi scrivere Scrivetemi qui sotto nei commenti Se anche a voi non vi dà Se anche a voi dà Dà una sensazione di soddisfazione incredibile Mamma mia Mamma mia ma Cosa Oddio Oddio no 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 adesso si rompe Ah 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 No raga raga no no Oh no queste No Allora queste cose non mi sono mai piaciute Queste cose qua con i pennarelli I pennarelli Ma no Ma che cacchio è Ma dai raga Come fa uno A A A rimanere soddisfatto per questa cosa qui Ma no dai ragazzi No 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 Assolutamente no Che No ragazzi No No raga Raga Scusate Ditemi Se anche a voi No ragazzi Questa per ora è la migliore È una delle migliori Questa qua Oddio No Questa non mi piace Comunque stavo dicendo Ditemi Se a voi Non vi dà quel benessere Proprio Al C'è che Riuscite ad infilare una cosa Però è bravo questo Riuscite ad infilare una cosa Proprio alla pertezione Poi va giù da solo Oddio 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 Sì vabbè Ma se me lo metti così Sì Che bello Però Però c'è Questa qua È più che 100% impossibile Questa è 1000% Impossibile Cioè Non si può No ragazzi La prossima volta Porto gli squishy No no Non dirmi che fa Oddio no No Che figata Queste cose che immergi Mamma mia Queste cose che vengono alla perfezione Che immergi Mi piacciono un botto Che figata Che figata Vediamo qua Che cacchio è Questa roba No raga Raga È uno squishy È È una specie di liquido Oddio Che figo però Non è che mi soddisfa più di tanto È tipo come Oddio È tipo Non lo so come spiegarlo Però Oddio Oddio Che cacchio è sta roba Ma cosa sto facendo Eh Oh mamma mia Raga Oh mamma mia Mi piace il fatto Che lo fa proprio bene così Guardate ragazzi Da tipo un effetto In 3D Un po' In verità sono tipo bolle d'acqua Cosa sono No Quando Ah No ragazzi No No Che 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 benessere Mamma mia Questo ragazzi Esiste anche il gioco Che devi tipo Tagliare Mamma mia Che bello Che è quel gioco Che cavolo sta No Che Ma cosa fa Ah No 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 Ma pure il den Ma che dentro No Raga Che figata Oddio Che bello Questo non mi soddisfa Però è bello È bello No Ecco Queste cose No No Ecco Queste cose qua Fatte con la cera No raga Queste cose qua Sono pazzesche Ma poi La cosa pazzesca È Come riescono Ma che benessere Che no Proprio come piacciono a me Guardate che bella Che bella Mamma mia E fa un piatto Questo è un piatto Adesso fa un piatto Ma questa non so se c'era Non so che cosa sia Però queste cose qua A me piacciono Da morire Mi piacciono veramente tanto Mi piacciono veramente Ma veramente Ma veramente tanto Fatemi sapere qui sotto Nei commenti Qual è la vostra preferita Ma adesso non abbiamo Ancora Punito Che be Vabbè No 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 raga Io 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 giuro che Che tocco Che uso il computer Io uso il computer No ragazzi Dai Non riesco a trattenermi Ecco ragazzino Queste cose sono Una delle mie preferite Che devi immergere È bellissimo Mamma mia Che figo No Che bello Che bello Quando schiacci tutto E si sento Che benessere Mamma mia Che bello Che bello Che Sì vabbè Dai Sì vabbè Vabbè Ok No Tagliare 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 Oddio Tagliare ragazzi Tagliare è una cosa Che dà più benessere Che cacchio è sta roba Che schifo Non mi ispira per niente Sta cosa Non so neanche che cosa Sia Ecco Tipo queste cose qua Tipo tempere Che vanno nell'acqua Tipo Quelle ronde Non mi piacciono molto Ah Ecco qui Questo Oddio Oddio No ragazzi Ma io Io sono allibito Io sono senza parole Quanto invece Ah No ragazzi È bellissimo Perché ti dà tutto Mamma mia No Oh No aspetta Però ecco Quando fa in grassetto È bello Quando lo fa in grassetto È bello Però Questo è più bello Che soddisfacente È più È più bello Che soddisfacente Che cavolo è sta roba Ma chi è Boh Non lo so Non lo so Oddio No ragazzi Adesso lo taglia tutto Che figo Ah Che bello Ah No ragazzi Cioè io Non Oh Ecco Queste cose qua Che rimbalzano Tipo Eh Mi piacciono abbastanza Ecco Vedete Ma che è sta roba Che cacchio è No Che schifo Che schifo Che schifo Che schifo Ragazzi Ma che schifo è Ah Qui soddisfano tipo Le bolle Le bolle Nella pelle No Questa no Cioè Un po' Si ma no Cioè Sni Cioè no Non lo so Boh Ah No Questo 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 deve essere Eeeh No Pensavo No 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 Non mi piace Non mi piace Non l'aspettavo più Ma so Perché tipo Non lo so Ah No Questo è bellissimo Ah ma è duro Ah Che benessere No Non è Che bello Oddio 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 Oh my god Che figata è Oddio Oddio No Che figata Ma le vorrei fare anch'io Ste cose Che figata è Ma che è sto schifo No Non mi piace Anche se Ho detto Quelle cose Questo qua Non mi piace Di cose che Immergi Cos'è Ha finito Si è finito Ok Ma ragazzi Quindi niente È Finito È stato Bellissimo Io spero che il video Vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare Like in su Iscrivervi al canale E niente Noi ci vediamo In un Anzi Attivare anche la campanellina E niente Noi ci vediamo In un prossimo Video Bella Noi ci vediamo 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 Noi ci vediamo